Oggi il giudice monocratico nella persona del dottore Mazziotta ha rigettato quello che era il quarto patteggiamento proposto dall'imputato nel procedimento per l'omicidio stradale di Renzo Formosa. La motivazione è espressa in un provvedimento di 5 pagine molto articolato e tocca veramente tanti profili di diritto, è difficile riassumerli così. Posso dire che sotto un primo profilo il giudice ha riconosciuto che non si applichi, almeno al caso di specie, l'aggravante dell'eccesso di velocità perché la velocità tenuta dal conducente in questo caso superava sì 70 km orari ma non era pari o superiore al doppio di quella consentita in città, quindi il limite in città è 50, non raggiungeva i 100. Sotto altro profilo però non ha ritenuto congrua la pena determinata anche senza questa aggravante perché è troppo lieve rispetto al grado di colpa dell'imputato che invece è stato ritenuto grave per come è avvenuto il sinistro. Ha rigettato la richiesta di patteggiamento, la quarta ribadisco, si è dichiato incompatibile avendo espresso un giudizio sul merito della questione e quindi gli atti passano al Presidente del Tribunale che designerà un altro giudice per l'ulteriore corso del procedimento. Finalmente posso dire oggi che il caso di mio figlio è stato attenzionato perché la mia paura oggi era quella di sentire che il patteggiamento fosse stato accolto, anche perché come ripeto la vita di un ragazzino non può essere patteggiata e spero che venga data la giusta pena a chi ha omesso e chi ha causato quel danno, quel 21 aprile. Oggi per me era un giorno importante perché questa giornata segnava veramente la fine o l'inizio di un processo e posso dire che sono soddisfatta perché il giudice ha valutato con attenzione quello che è accaduto quel giorno, cosa che fino ad oggi non era avvenuta.